Ciao a tutti amici, siamo di nuovo in diretta, stasera speciale live sulle donne nel cinema e nella letteratura, insieme a me Chiara Ricci, storica del cinema, e andiamo subito a vedere se in linea, sarà sicuramente in linea, non perdiamo tempo perché abbiamo tantissime, ma proprio tantissime cose da raccontarvi. Ti ho invitato, vediamo se il mio invito funziona, altrimenti se non vedi l'invito già sai come procedere, e vediamo un attimo di andare online. Ti ho invitata, ma credo che non ti arrivi l'invito. Se riesci di nuovo tu, così sì, penso che sia il modo più giusto. Eccoci, vediamo un attimo se ci accetta e se riesco. Ok, vediamo un attimo, provando e riprovando. Ok, tu mi vedrai adesso, io non ti vedrò. Adesso non ti vedo neanch'io. Ok, siamo pari. Siamo pari, ma non è un problema, perché a questo punto noi siamo rodate, chi ci segue e chi ci seguirà non lo sa che noi siamo rodatissime, quindi siamo abituatissimi a fare le registrazioni al buio, quindi andiamo tranquillamente alla grande, Chiara. Ovvio, ormai noi ci seguiamo a vista, ci fiutiamo. Esatto, esatto, assolutamente sì. Allora, Chiara, innanzitutto come stai? È da poco tempo che non ci sentiamo e vediamo in realtà, anche se a distanza. Tutto ok? Giornata piovosa anche da te? Sì, oggi è un brutto tempo anche qui, però sono anche presa abbastanza tutta, direi, però tutto bene. Oggi sì, giornata è un brutto, è anche umida, direi, proprio vogliamo andarla a mettere nel... Benissimo, benissimo, va proprio bene, alla grande, anche qui, umidiccio. E niente, salutiamo Jane che già ci ha raggiunto, aspettiamo qualche altro secondino, giusto per vedere se arriva qualcuno puntuale, ma altrimenti cominciamo perché tanto le cose da dire sono tante e chi vuole e ha un po' di pazienza per ascoltarci, ci riascolterà indifferita. Allora, Chiara, sono otto protagoniste, quindi abbiamo un bel dire, quattro del mondo del cinema e quattro del mondo della letteratura. Un bel gruppo assortito di donne. Assolutamente sì. Buonasera ragazze, ciao Jane, un bacione. Ciao Jane! Dunque, diciamo subito che come è nata questa live? È nata a sorpresa, perché devo dire che anche se la facciamo sul mio profilo, perché così abbiamo voluto farla da questa parte, ma la condivideremo anche sul profilo di Chiara, quindi niente panico, niente paura, è nata, come dicevo, all'improvviso. Chiara mi manda un vocale, mi fa questa proposta. Vogliamo fare questa live dedicata alle donne nel cinema e nella letteratura? Qualcosa che comunque sia esuli dai soliti, dalle solite cose che fanno nei giorni della festa della donna, chiamata così, ma in realtà è giornata internazionale della violenza contro le donne, la facciamo semmai in un altro giorno. Questa cosa mi è piaciuta tantissimo. Ho subito detto di sì, anche perché abbiamo scelto anche un giorno dopo, non a caso, perché tutti i giorni bisognerebbe parlare di donne, di grandi donne, come facciamo, come faremo noi stasera, naturalmente, raccontandovi qualcosina, qualche curiosità e non scendendo nei particolari, perché altrimenti ci servirebbero mesi, non sarebbe una live di un'ora, un'ora e mezza, ma sarebbe una live di mesi. Dunque, Chiara, vogliamo cominciare? Vogliamo andare a cominciare? Io lascio subito la parola a te, così cominciamo con il cinema, e poi dopo io ti affianco con un altro personaggio particolare del mondo della letteratura. A te la parola. Perfetto. Allora, intanto ben trovati a chi ci sta seguendo, rinnovo i saluti, a chi poi ci seguirà. Allora, come ha detto già Maria Grazia, abbiamo questo ottetto, questo gruppo di idioti, con queste quattro donne del mondo del cinema, con il Viranotari. Il Viranotari è passata alla storia del cinema, e non solo come la prima donna regista italiana. Quindi parliamo degli anni, ovviamente, del cinema muto, 1875, quindi vent'anni prima ancora dell'invenzione del cinema, ed è nata a Salerno ed è morta a Cava dei Tirreni, ovvero alle porte della costiera amalfitana, nel 1946. Una piccola curiosità che a me ha molto colpito riguardo la data di nascita di questa regista, è che è lo stesso anno, ma a distanza di quattro mesi, di un mese scarso, dalla nascita di Griffith, che è considerato il padre, in realtà, del cinema. Quindi un uomo e una donna, io l'ho sempre associati da quando ho iniziato a studiare storia del cinema, e loro in particolare, o il cinema muto in particolare, come il papà e la mamma del cinema. Quindi un padre internazionale e una mamma tutta italiana. Quindi mi sembra un'ottima unione. Andando nello specifico, Elvira Notari, come vi dicevo, è una regista italiana, in realtà lei è anche una delle prime imprenditrici, abbiamo parlato di fine Ottocento, quindi si porta dietro e si porta avanti con sé tutto quel retaggio, quindi immaginiamo già le condizioni della donna in Italia, lei ovviamente è donna del sud, quindi studiò quelle che oggi sono, se ancora si chiamano così, le odierne magistrali, quindi è andata anche tanto avanti con gli studi, tenendo conto del periodo. E poi si è vissuta tutta o gran parte delle innovazioni di fine Ottocento, sia innovazioni tecnologiche, se vogliamo, ma anche innovazioni culturali, quindi si può dire di metropoli, di città, ha scritto tantissimo. Nel Novecento c'è il grande padiglione a Parigi, quindi la fiera internazionale che c'è stata a Parigi, quindi dove tutto il mondo si esponeva, ha partecipato anche l'Italia, quindi tutto questo si è vissuto Elvira Notari e tanto ha portato nel cinema. In realtà, se vogliamo, possiamo anche considerarla un'antesignale, un'anticipatrice anche del cinema neoralista addirittura, parliamo di 40 anni prima, quindi di fine Ottocento, appunto inizio Novecento, proprio perché lei usava andare a riprendere e a raccontare i suoi film per le strade. Ci sono, purtroppo a noi sono arrivati solamente tre lungometraggi, che ho avuto la fortuna di poter vedere conservati alla Cineteca Nazionale qui a Roma, perché ho scritto una tesi di laurea magistrale dedicata a Elvira Notari, quindi mi sono appunto dedicata molto a questo studio e quindi ho potuto vedere questi film, che non hanno la traccia sonora, almeno quando io sono andata a vederli, ora sono stati restaurati, vengono anche presentati al Festival del Cinema Muto, sta venendo molto rivalutata Elvira Notari, molto studiata fortunatamente per noi, perché fino a qualche anno fa non se ne parlava moltissimo. Io mi ricordo addirittura quando ho proposto questa tesi, ci furono dei problemi perché non si era convinti sul tema, perché era una semi sconosciuta e quindi le ricerche sono state tante. Fortunatamente oggi nel tempo ci sono nati molti più libri, si è studiato molto di più, anche al Cinema Muto, questa è una piccola parentesi per gli appassionati. Dicevo di lei, sono arrivati a noi soltanto tre lunghi giorni, ma in realtà La Notari si è prodotta in oltre 100 film, ha prodotto cortometraggi, i primi del Rivederci e gli augurali che venivano proiettati con ovviamente musica dal vivo nelle prime sale cinematografiche, dando appunto gli appunti natalisti e gli arrivederci che era una sorta di saluto al pubblico, invitandolo poi alle proiezioni successive e quindi facendo anche un brave spot dei film che poi si sarebbero andati a vedere alle prossime proiezioni. Quindi è stata molto, ma molto avanti per la sua epoca. E come dicevo all'inizio è stata imprenditrice, suo marito lavorava per lei e così anche i suoi figli. È nata la Dora Film, di cui lei era appunto il capo, che è questa società di produzione dal 1909 fino al 30 e in tutto questo arco si sono prodotti i film che sono stati portati anche in America, ovviamente con un invisto di censura e passavano per gli italiani che emigravano in America. Quindi anche lì si è una macchina produttrice. Purtroppo la Dora Film è stata imprenditrice, è stata imprenditrice, è stata imprenditrice, Purtroppo poi il cinema della notaria ha avuto una botta d'arresto con l'avvento di un oro e anche con l'avvento del fascismo. Quindi ricordiamo che Mussolini era contro il regionalismo, i film ovviamente erano muti, però erano quasi tutti ambientati in campagna e anche le tematiche che affrontava la notaria, anche lì come dicevo prima riguardo all'essere l'antesigna del neorealismo, ha parlato anche di alcuni i profili maschili e femminili, ovvero lei ha portato in scena delle famiglie che non erano complete, o mancava la madre o mancava il padre. Madri o padri che hanno cresciuto figli da soli, figli che spesso erano delinquenti ma c'era poi sempre l'angelo, assolutamente un fratello minore, che poi riportava l'ordine nelle cose. La donna era l'infama, quindi era la malafemmina, nella maggior parte dei casi. E' stata giudicata per ciò che fa, quindi che può essere un tradimento, può essere una spiata, oppure mette in scena anche i primi femminicidi. C'è una donna che viene pugnalata al cuore e vi ricama anche molto l'arte, che ricorda molto la scultura di Sant'Agata, o anche, forse la ricordiamo molto di più, la Santa Teresa Davila, che è qui a Roma. Quindi si mescola tutto, da cinema, appunto il neorealismo, l'arte. E suo marito Nicola Notari, lei in realtà è il viracoda, il notari, lavora per lei, lui era un fotografo, inizia a dipingere e a sistemare i fotogrammi e quindi anche a dipingere i fotogrammi, le pellicole. L'industria familiare, che però è giunta fino a noi, grazie per ora, a le vie spezzone di altri, che però sono immortali, poche. Quindi, ragazzi, adesso passo la parola a te, se no io non mi fermo più. Sì, stavo ascoltando, perché il maltempo, naturalmente, fa andare e venire un pochino la voce. Comunque sia, la maggior parte di quello che hai detto si è ascoltato tranquillamente, si è sentito tranquillamente, però c'erano delle interruzioni. E allora stavo facendo caso, se accadevano di nuovo, se i nostri amici avevano problemi a loro volta. Saluto tutti quelli che ci hanno raggiunti, che ci hanno raggiunte, anzi, visto che siamo al femminile totalmente stasera, siamo due donne e parliamo di donne, quindi raggiunte, e io a questo punto comincio, faccio un salto indietro nel tempo, perché io parlo del 1700, metà 1700, inizio, quindi inizio con metà 1700 e vado a finire nel 2006, quindi faccio un escursus abbastanza veloce e inizio a parlare di una donna il cui nome non vi dirà niente quando lo pronuncerò, ma dopo aggiungerò un qualcosa che vi rivelerà, in realtà vi farà conoscere immediatamente, riconoscere immediatamente questo personaggio. Lei è Mary Wollstone, poi la conoscono, ma è famosa per essere stata una scrittrice, una filosofa e oltretutto antesignana del femminismo. Lei è stata a tutti gli effetti la fondatrice del femminismo liberale. Quindi Mary Wollstonecraft, nata a Londra nel 1754 e morta nel 1794, sempre a Londra, ha avuto una vita abbastanza intensa, anche se relativamente breve. Era nata in una famiglia modesta, anche se il papà che lavorava nell'ambito della tessitura, a un certo punto è andato a testa in giù, come si dice in questi casi, cara socia, perché un investimento sbagliato, naturalmente, ha fatto andare a monte tutti i suoi affari, poi aveva il vizietto del gioco, poi naturalmente è subentrato anche un altro vizio, all'epoca molto diffuso, che era quello della bottiglia, e a un certo punto a 13 anni Mary si è ritrovata uffana. Ma è stata sempre una ragazzina, una donna molto forte, perché devi pensare che, prima di tutto, è stata un'autodidatta, quindi si è curata da sola l'istruzione e lavorava anche per aiutare la famiglia e per sostenersi. La cosa particolare di Mary, che a un certo punto iniziò a lavorare in una casa editrice e quindi venne a contatto con degli intellettuali, che in un certo senso le aprirono ancora di più la mente, perché lei era una donna molto riflessiva, tant'è vero che è stata definita una filosofa, ha scritto tantissimi libri, anche dei romanzi, ma io mi soffermo su uno in particolare, che è rivendicazione dei diritti delle donne. Devi immaginare che questo testo, che dovrebbe essere consultabile ancora oggi, io ho fatto delle ricerche su internet, ho trovato diverse cosette interessanti, non so se è stato editato di nuovo, se è stato ripubblicato ultimamente, però è un libro particolarmente interessante, perché lei dice in questo libro, rivendica la parità intellettuale degli uomini e delle donne, delle donne nei confronti degli uomini in particolare, perché devi pensare che nel 1700, come tu ben saprai, si riteneva che la donna fosse inferiore intellettualmente, quindi c'è un periodo niente male per le donne, e lei diceva che non era come una situazione intellettuale delle donne. E lei non solo lo rivendica in questo testo, ma addirittura sottolinea i metodi educativi, cioè le varie fasi per educare i bambini. In questo passaggio dell'incontro con gli intellettuali, quindi in questo passaggio nella casa editrice Johnson, segue un periodo abbastanza travagliato per lei, addirittura va in depressione e tenta il suicidio, viene salvata, ritorna di nuovo in questa casa editrice, e qui avviene l'incontro di cui vi parlavo prima, perché l'incontro con William Godwin, il papà dell'anarchismo, è fondamentale perché i due hanno una relazione, e da questa relazione nasce niente po' di meno che Mary Shelley. Questa quindi di cui vi ho parlato è la mamma di Mary Shelley, ossia la scrittrice di Frankenstein. Pire, che cosa poteva venire fuori se non una grande autrice? Da una mamma del genere, cioè da una mamma del genere poteva venire fuori solamente Mary Shelley. Quindi questa è la prima donna di cui io vi ho parlato, e sottolineo che è stata la prima donna femminista della storia, cioè ha fondato il femminismo socialista. Quindi mettete quest'altro tassello, in quella che è la storia delle donne, e del cammino lungo e tortuoso dei diritti delle donne, che ci ha portato fino ad oggi. Io ti rimbalzo di nuovo la parola, perché dopo parlerò di un personaggio molto particolare, e in realtà mi ha molto stupita, perché quando l'ho approfondita, che è Matilde Serrao. Però prima tu ci parlerai di un'altra magnifica interprete del cinema. Io non so quali tu abbia scelto adesso, quindi sarà una sorpresa anche per me. Quindi Chiara, a te la parola. Sì, andando in ordine delle confusioni, ma ovviamente non si creeranno mai, perché sono nomi ben incassonati nella memoria, o comunque nel nostro immaginario. Io proseguo la mia carrellata di donne nel cinema con Anna Magnani. Non potevo non inserirla nel mio quartetto d'assi. È un poker di donne. Ma tu hai anche il tuo libro a portata di mano? Sì, ce l'ho qui da queste parti. Allora quando vuoi fallo vedere. Prima vi racconto e poi ve la metto in chiusura. Assolutamente sì. Allora, Anna Magnani, tutti conosciamo Anna Magnani, soltanto a pronunciare il suo nome, credo che quasi per tutti la prima scena che ci viene in mente, la prima immagine, la corsa di Roma città aperta. Quindi credo che già solo quello è un'icona del nostro cinema e non solo. Anna Magnani, tra l'altro il 7 marzo sarebbe stato il suo compleanno, nasce a Roma nel 1908 e muore il 26 settembre del 73, sempre qui a Roma. E' stata ovviamente una delle più grandi attrici del secondo dopoguerra, e credo italiane, proprio nella storia del cinema. Io sono di parte, ma penso di poterlo dire con una certa sicurezza, al di là di ogni cosa. La Magnani appunto, come dicevo, è nata a Roma. Anche lei cresce in una famiglia di donne perché... ...alle cure della nonna, quindi della mamma, e delle sue zie e in famiglia c'è suo nozione, mentre invece la mamma appunto se ne è in Egitto, dove poi si farà una nuova vita, avrà un'altra figlia, Olga, poi la Magnani nel tempo andrà a conoscerà, fra anche un pochino pace con questo rapporto. Quindi cresce, una cosa che lei teneva tanto a dire, che non era stata trovata per strada e che soprattutto era romana, e questo lo posso accertare perché ho visto il certificato di nascita, che è nata a Roma, quindi questo lo possiamo sfatare, non è egiziana, non è nata da Alessandra d'Egitto. Ci teneva tanto a lei sempre a sottolineare spesso, come ho letto nelle sue interviste, che appunto non era stata raccattata per strada, ma aveva studiato, era una donna colta. In effetti la Magnani studia a pianoforte per tanti anni e poi si avvicina al teatro, anche lì per caso in realtà, perché... doveva per forza passare anche dove c'era all'epoca quella che oggi è l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Sibbio D'Amico, ma all'epoca si chiamava la reale scuola di recitazione Eleonora Duse. E la Magnani doveva per forza di quasi passare davanti a questa scuola e quindi vedeva questi ragazzi che ridevano, piangevano, si facevano scherzi, sentiva ridere, urla. Si ferma e chiedeva che fate? E un giovane... Vede c'è qui, c'è un po' noi. E la Magnani si fa iscrivere. E il pozzetto era Paolo Stocco, con il quale poi pare abbia una liaison giovanile, però è un'amicizia ovviamente che durerà poi una vita. Quindi la Magnani si iscrive a questa scuola di recitazione e non prenderà mai il diploma, perché al termine del secondo anno, anzi scusate, del primo anno, Dario D'Incodemi, che allora era un grande... no, del secondo anno, scusatemi, che allora era un Dario D'Incodemi, un grande imprenditore, il più grande imprenditore teatrale, la richiede, la vuole con sé per portarla in tournée. E all'epoca non si poteva lavorare e studiare e quindi la Magnani decide di fare il grande salto e si getta sulle tavole del palcoscelico e da lì avrà vita la sua carriera. Inizialmente è teatrale, la Magnani nasce come attrice di teatro e reciterà Goldoni, reciterà teatro classico, reciterà le prime commedie brillanti degli anni 30 e poi arriverà il grande botto con il teatro di rivista, dove reciterà tanti anni, per quattro anni più o meno consecutivi, con Totò. Quindi si faranno l'uno da spalla all'altra. Totò aveva un grande amore per la Magnani, un grande amore quasi paterno, paterno addirittura. aveva una grande stima di questa donna che era molto forte. Comunque la Magnani già all'epoca aveva, nonostante fosse giovane, ma aveva già un carattere abbastanza formato e poi è quel carattere che è passato la storia come un brutto carattere. Ma in realtà chiunque ha carattere, solitamente ha un brutto carattere. La Magnani da buona romana non le mandava a dire. Diciamo che si faceva sentire. e ancora adesso, meglio, adesso sono quasi tutti scomparsi i suoi colleghi, però quelli che anni fa ho avuto la fortuna di incontrare e mi hanno raccontato, non le mandava a dire, si faceva sentire come, in tutti i modi possibili e immaginabili. Soprattutto con la sua risata che è rimasta nelle orecchie di chiunque l'ha conosciuta. Quindi dal teatro di rivista, che lo pratica per tanti anni, quindi tutti gli anni 40, almeno tra il 40 e il 45, sicuramente, che cederà addirittura accanto a Raimondo Vianello, anzi, per fare la parte di un... con Alberto Sordi. Quindi veramente con... quello che poi diventerà il grande... la grande televisione, il grande cinema, anche di lì a poco. Totò, quindi voglio dire, già Totò, abbiamo detto tutto. E poi arriva l'incontro con il cinema. In realtà la Magnani, tra gli anni 30, lei debuttaa al cinema nel 34. Fa piccole particine, la cameriera, la signora è servita, le piccole battute. Poi con la rivista, qualcosina comincia a muoversi. Poi però, arriva per una città aperta. E quindi siamo tra il 44 e il 45. La lavorazione inizia il 17 gennaio, il 18 gennaio, per non farà iniziare il 17, perché Rossellini, il regista, era abbastanza scaramantico, e quindi non voleva portarsi sfortuna da solo. E da lì comincia questa lavorazione di questo film. La Magnani e Rossellini non sono già amanti, lo diventeranno, al termine della lavorazione, in un treno che si dirige per la presentazione di questo film a Parigi. La Magnani era disperata perché suo figlio, Luca, nato nel 42, dalla relazione con Massimo Serato, aveva problemi di salute e allo stesso tempo Rossellini era disperato perché un figlio gli era morto di peritenite in Spagna. Quindi questo dolore li unisce, quindi partono su questo treno come colleghi di lavoro che stanno andando alla presentazione di un film e ne scendono da innamorati. Questa relazione durerà fino al 48 quando arriverà l'uragano Ingrid, quello che viene così ricordato, e che poi sfocerà ovviamente Ingrid Bergman e che poi sfocerà in quella che poi è passata la storia scandalistica, al gossip degli anni 40 come la guerra dei vulcani, ovvero la Magnani recitava Vulcano, appunto questo omonimo film diretta da William Dieterle, mentre invece Rossellini sarà a Stromboli a rediriggere l'omonimo film che è appunto i due vulcani con Ingrid Bergman. Su questa storia tra i due vulcani si è detto di tutto, addirittura che la Magnani andasse sul picco pitto dell'isola a tirare improperie verso l'altra parte, che ci fossero spie tra un set e l'altro. Quindi insomma se ne è raccontato di ogni, all'epoca ci hanno sguazzato non poco, anche perché erano le due attrici di picco in quel periodo. E poi a quell'Italia si divisa in un'altra. Il nord di solitamente era per l'Alberg, ma nel sud tifava per la Magnani. Comunque ve la faccio breve, altrimenti veramente vi porto non so dove. La storia tra Rossellini e la Magnani ovviamente finisce, ma la carriera della Magnani continua e quindi la vedremo nell'Onorevole Angelina, la vedremo in Bellissima di Visconti, che ancora oggi è un film attualissimo e dove lei ha messo tanto di suo. Una piccola curiosità nella scena, per chi ha visto il film e chi non l'ha ancora visto ve lo consiglio, nella scena in cui lei è verso la fine del film con sua figlia in braccio e si sente la musichetta di un giostraio e lei è disperata perché ha visto che questa bambina ha portato a Cenecittà e veniva comunque l'erisa, presa in giro e lei invece ha investito tutto su questa figlia per farle fare un avvenire diverso, ma non soltanto per la speranza ma anche le sue proprie frustrazioni di donna che comunque era una donna del popolo e viveva facendo lavori anche di fortuna, andava a fare le iniezioni a casa della gente. Quindi quando si rende conto dell'errore che ha commesso e dove ha esposto sua figlia piange su questa panchina con sua figlia in braccio e la Magnani lancia un grido di aiuto quel grido di aiuto non era nel copione la Magnani è partito questo grido questa richiesta d'aiuto senza che neanche Bisconti ne fosse a conoscenza quindi questo per dire quanto ha investito nel ruolo. Arriverà all'Oscar nel 55 poi la rosa ratuata la Magnani è la prima attrice italiana a vincere un premio Oscar tra l'altro per un film recitato in inglese la Magnani non conosce una parola di inglese l'ha imparato in dieci giorni di navigazione da Napoli a New York e poi ancora l'incontro con Pasolini su Orletizia quindi ha fatto anche il raccoglio a ruoli improponibili tra cui su Orletizia la pila della Peppa quest'ultimo lei l'ha addirittura misconosciuto e dice quello non l'ho fatto ovviamente il film esiste quindi non possiamo dire il contrario e poi l'incontro con la televisione a fine anni 60 inizio anni 70 dove Alfredo Giannetti la dirige in quattro quelle che oggi si chiamano fiction in quattro sceneggiati ovvero quattro film in realtà indipendenti l'uno dall'altro dove Ramagnani fa una galeria di donne che vanno dal non in ordine vedi con in ordine di tempo quindi dal 1870 che poi in realtà è l'ultimo di questa carrellata di film che verrà poi mandato in onda la sera proprio della sua morte il 26 settembre del 73 correva l'anno di grazia 1870 poi ci sarà la sciantosa che invece è il primo film che va in onda cui seguirà nel 1943 un incontro con Enrico Maria Salerno e l'automobile che è esilarante la magnana la guida di una spider che corre come una pazza per via Veneto con il merito di un cavaleri che adesso è Vittorio Caprioli quindi questa è un po' la carriera ovviamente si tornerà anche al teatro nel metà degli anni 60 la magnana tornerà a teatro diretta da Zeffirelli nella lupa e in Medea quindi dopo quasi 20 anni o 18 17 anni di distanza perché l'ultima rivista è del 53 che però fa flop quindi la magnana è un insuccesso tornerà poi al cinema nel metà degli anni 60 e arriverà fino in Russia e la magnana ha avuto il coraggio di farsi il viaggio da Roma fino in Russia in treno insieme a tutta la troupe quindi se non è una insomma una donna paurosa di volare si dice che facesse il testamento ogni volta che dovesse prendere un aereo però insomma una grande donna indipendente è stata una delle prime donne in Italia a pagare gli alimenti al marito una tra le prime negli anni 30 a prendere la patente qui in Italia quindi una donna che è anche lei impenditrice di se stessa che si è mantenuta ha combattuto una vita intera per la sua indipendenza e la sua libertà di donna prima ancora che di attrice scusatemi se mi sono dilungata io oramai le grazie a voi rotaccio e ti ripasso la parola ti ascoltavo attentamente perché innanzitutto stiamo parlando di donne di epoche diverse io adesso tornerò ancora indietro perché andrò nel 1800 a chi ci sta seguendo che il fil rouge è sempre lo stesso donne che hanno avuto molto coraggio donne indipendenti donne libere che hanno conquistato come si dice qui ammorsi la vita di questo è il filo conduttore poi dopo alla fine vi faremo anche una sorta di riflessione finale di sunto perché sembrerebbero un attimo distanti almeno temporalmente l'una dall'altra ma in realtà alcune vero Chiara si incroceranno anche perché più avanti poi parlerò di un'altra grande donna che incrocerà il destino mi sembra proprio della Magnani che ha incrociato il destino della Magnani assolutamente sì vabbè però non rivolgo altro invece voglio salutare Andrea che ci ha salutate entrambe e Cristina grazie per essere passati e adesso passo a parlarvi di un altro una donna che ho riscoperto in realtà che è Matilde Serau dovete sapere che Matilde Serau io l'ho incontrata naturalmente tra i libri di scuola e non ho mai approfondito il suo personaggio e devo dire che mi era rimasta impressa perché è stata la prima donna e qui gioco naturalmente in casa a fondare e a dirigere un giornale quindi l'ho scelta tra virgolette perché è stata una grande scrittrice ma soprattutto una giornalista e dovete sapere che io tu mi perdonerai socia ho sguazzato soprattutto nel giornalismo perché ha una vita molto interessante niente male innanzitutto una donna la prima donna a fondare e dirigere un giornale e chi conosce anche solo di sfuggire il mondo giornalistico anche oggi al nostro tempo alla nostra epoca sa che è difficilissimo per una donna fare il giornalismo fare la giornalista il giornalista Matilde Serau nasce a metà del 1800 e muore nei primi del 1900 nasce a Patrasso in Grecia perché dovete sapere che la mamma era una nobile decaduta greca il papà un avvocato che succede? la curiosità una tra le tante curiosità è che lei fino all'età di 8 anni non sapeva né leggere né scrivere quindi immaginate cioè che cosa assurda per una scrittrice prolifica come lei per una giornalista non saperne leggere né scrivere a 8 anni poi direi che ha recuperato alla grande perché naturalmente è diventata una grande scrittrice oltre che una grande giornalista ma procediamo per ordine la famiglia versava in difficoltà economica e quindi lei a un certo punto si è data da fare anche lavorando con facendo la telegrafista addirittura poi vi dirò perché questo ha ispirato anche un suo libro e in poche parole a un certo punto la famiglia si tratta di Napoli il papà che è un avvocato comincia a fare il giornalista per una rivista un giornale che si chiama Il Pungolo quindi lei cresce respirando l'aria di una redazione da qui in poi sono chiari i passi perché comincia a scrivere degli articoletti comincia a darsi da fare nell'ampito giornalistico e ha 20 anni che il papà prende e parte Roma va a Roma ambiente diverso salotti letterari e incrocia diversi intellettuali diventa ispira la curiosità di chi la circonda perché fisicamente è abbastanza imponente e poi ha una risata abbastanza roboante quindi più che affascinati dalla sua cultura e indipendenza coloro che la circondano sono affascinati dal suo essere abbastanza imponente e non passare inosservata sia fisicamente che nel modo di comportarsi e qui conosce tra i vari intellettuali quello che sarà il suo futuro marito Scarfoglio diciamo che facciamo un passo indietro l'indipendenza della Serao viene già fuori quando comincia a lavorare per aiutare la sua famiglia e fa la telegrafista come vi dicevo prima e addirittura il suo primo libro l'ha dedicato alle telegrafiste cioè alle sue colleghe li andiamo davanti e torniamo al suo incontro con Scarfoglio Scarfoglio rimane ammaliato da questa donna e infatti la descrive in maniera molto carina perché pur essendo una donna apparentemente tra virgolette concedetemi il termine rude in realtà lui la dipinge come una donna molto delicata molto sensibile molto gentile molto dolce anche se dall'apparenza un po' seriosa chi ha visto l'immagine e la foto della serao sa che parliamo di una donna abbastanza matrona ecco matronale quindi da qui comincia un sodalizio che non è solo amoroso ma è anche professionale e pensate che il giorno del matrimonio a scrivere la cronaca del matrimonio tra la serao scarpaio è stato Gabriele D'Annunzio quindi ho detto tutto e da lì poi i due moglie quindi è la prima donna anche che riesce ad unire lavoro e famiglia tra l'altro la serao cosa fanno insieme i mariti e i moglie fondano un giornale il Corriere di Roma nasce questo Corriere di Roma le cose non vanno bene perché subito dopo diciamo dopo un po' di tempo cosa succede che il Corriere di Roma va a testo in lui come si dice in questo caso perché è pieno di debiti quindi sommerso dai debiti però loro sono fortunati incontrano un banchiere livornese che decide non solo di appianare tutti i debiti del Corriere di Roma ma addirittura invita marito e moglie a tornare a Napoli per dirigere il suo giornale dalla crasi dall'incontro tra questi due giornali il Corriere di Roma e il giornale di Napoli nasce il Corriere di Napoli e potete immaginare chi siano stati i corrispondenti di allora del giornale perché Matilde Serau godendo di amicizie abbastanza importanti chiama niente meno a scrivere per questo giornale Gabriele D'Annunzio Carducci e Salvatore Di Giacomo cioè quindi una triade perfetta una piccola curiosità e la interisco per chi non è mai stato a Napoli oppure non ci ha fatto mai caso a proposito di Gabriele D'Annunzio nel bar centralissimo di Piazza Brebiscito che tutti conoscete almeno di nome e che è il Gambrinus c'è una lastra fateci caso davanti a questo bar dove c'è scritta una poesia che in realtà è stata poi ridotta a canzone non so se tu lo sai socia che è stata scritta da Gabriele D'Annunzio e si chiama Avucchella ed è stata musicata da Ferdinando Tosti è una poesia una canzone molto molto carina e se vi capita di andare a Napoli a Piazza Brebiscito oltre al Caffè del Gambrinus datevi anche una letta a questa poesia canzone perché è meravigliosa quindi giusto per farvi capire quello che fermentava a Napoli in quel periodo dopo questa avventura con il il Corriere di Napoli che si conclude ai loro che cosa succede? che marito e moglie Scarfaglio e la Serao fondano un giornale che tutti conosciamo il famosissimo Mattino il Mattino nasce nel 1892 le cose non vanno bene perché è un anno orribile per la Serao dovete figurarvi che litiga col marito se ne va in Val d'Aosta per naturalmente per riprendere un po' le fila del suo matrimonio ma soprattutto riprende le fila del matrimonio suo marito che se ne va a Roma Scarfaglio conosce una cantante di teatro e ha una liaison con questa donna da questa liaison nasce un bambino quindi la situazione si complica la donna lo partorisce questo bambino vorrebbe che Scarfaglio lasciasse la moglie per questa nuova famiglia ma lui non vuole e quindi lei cosa fa? va davanti casa di Scarfaglio della Serao lascia il bambino fuori la porta scrive una lettera straziante e va a suicidarsi neanche a dirlo scandalo esageratissimo uno scandalo di cui però il mattino di Napoli non parla i giornali legati alla cordata Serao Scarfaglio ignorano la notizia e come voi pensate nel momento in cui la notizia esplode succede il caos più completo quindi fango su Scarfaglio fango sulla Serao nonostante la difesa del marito e da qui comincia un po' la decadenza anche se la Serao è costretta a dimettersi insieme al marito al mattino però dopo vari tentativi riprende la carriera giornalistica inventandosi una rubrica che si chiama Ape, Mosconi e Vespe che ha un isperato successo e da qui in poi lei tra virgolette campa con questa rubrica bisogna dire che la Serao è stata candidata per ben sei volte al premio Nobel della letteratura non l'ha mai vinto e nel 1927 muore e nello stesso anno la sua tra virgolette rivale Grazia De Redda vince il premio Nobel per la letteratura un altro particolare prima di passare la parola chiara è che la Serao quando si viene candidata al premio Nobel per la letteratura ha uno stop da parte di Mussolini cioè la sua candidatura è frenata da Mussolini quindi è davvero una una cosa molto spiacevole perché candidata sei volte portata decantata mortissimo dallo stesso intellettuale De Gubertis che fu uno dei più grandi sostenitori della sua candidatura è davvero una lascia un po' la mare in bocca perché poi ha avuto una carriera luminosissima in realtà anche se costellata da diverse tra virgolette disgrazie una carriera ricchissima dal punto di vista letterario anche se io non ne ho parlato in modo particolare ma già questa giornalistica che vi ho dipinto in poche parole vi dà l'idea della grandezza anche della Serao e di ciò che di tanto ha fatto chiara io ti ripasso la linea così procediamo e arriviamo al punto in comune sì io arrivo un po' più ai giorni nostri l'attrice del 49 è ancora tra noi forse per tutti quanti è una eccellente attrice parliamo di Meryl Streep ora la carriera di Meryl Streep è impossibile da riassumere in pochi minuti quindi vi risparmio il lunghissimo elenco di film se non qualche titolo ma più che altro come consiglio per chi già non lo ha visto o per ricordare quelli più a mio parere ovviamente significativi è un'attrice da record appunto un tanto partiamo dalla nascita nasce il 22 giugno del 1949 nello Stato di New Jersey è figlia di un art director e di un e di un dirigente farmaceutico scusatemi ha altri due fratelli minori e in realtà il suo amore per il cinema viene assai in ritardo ovvero non ci pensava per niente almeno agli inizi tant'è che a 12 anni e poi fino ai 16 quindi per 4 anni studia da soprano quindi non aveva minimamente l'intenzione di dedicarsi al teatro era proprio lontano da da lei da qualsiasi logica in quel momento poi in realtà diventerà la sua vita e di questo se ne accorge nei giorni degli studi quando al college partecipa a una rappresentazione educale della gradiva Giulia di Skrindberg e poi questo Giulio in realtà tornerà in tanti titoli e in tanti suoi personaggi lungo la sua carriera e da lì anche l'insegnante si accorge che la ragazza ha del talento e facendo un passiente lei addirittura prima faceva la cheerleader quindi anche lì non ci pensava minimamente è stato un caso uno scherzo del destino anche lì se vogliamo che però è andato a buon film tant'è che lei voleva studiare ha studiato anche per un po' legge pochi ha capito che la strada era tutta un'altra e il suo insegnante appunto che l'ha studiata in questo debutto che stiamo nel 69 quindi aveva già una ventina d'anni ha sempre sostenuto che il malestritto non ha mai non ha mai avuto il bisogno di imparare a recitare anzi se mai è la recitazione che ha appreso qualcosa da meglio scritto ed era soltanto agli inizi quindi poi la carriera abbiamo visto quello che ha fatto soltanto pochi numeri tanto per darvi un'idea un'infinità di film ora non ho contato film per film ma sono onestamente un'infinità se non erro queste le ho contate spero di averle contate bene sono almeno 21 le nomination che ha ricevuto agli Oscar ed è anche qui un attice da record perché ha avuto varie nomination in 5 decenni diverse dagli anni 70 agli anni 10 del 2000 le sue nomination ci sono sempre state ha vinto tre Oscar a pari di Ingrid Bergman di Daniel Delewis insomma è soltanto tra le poche ad aver vinto tre premi Oscar ed è tra le poche ad aver vinto insomma ad altre soltanto sette attrici tra cui la stessa Bergman Helen Hayes Jessica Lange che hanno vinto sia per la loro interpretazione come miglior attrice non protagonista che come miglior attrice protagonista quindi come dicevo è un'attrice da Oscar e da record i film per cui ha vinto gli Oscar sono Kramer Kramer contro Kramer del 79 dove ha vinto come miglior attrice non protagonista e poi per la scelta di Speed del 82 e poi del più diciamo docente di una decina o quindicina di anni fa che è Dairon Lady dove ha interpretato il ruolo di Lady di Ferro di Margaret Thatcher in modo assolutamente magistrale come dicevo si viene in ritardo la scrittura al cinema arriva nel 1977 e in realtà viene dopo un rifiuto perché quindi Laurenti che stava qualche tempo prima poco tempo prima aveva intenzione di girare la nuova versione remake di King Kong ha un figlio dice in fase di provini in cui si è rappresentata di strip e lo dice l'italiano però di strip capiva l'italiano che praticamente senza mezzi termini era brutta e lei risponde per le prime a giro di Laurenti dicendo questo è un suo parere tra tanti pareri me ne va d'altrome e me ne cerco un altro di parere magari favorevole quindi anche lì il caratterino ce l'aveva e tra i primi film eccezionali che fa come prima apparizione è il 77 e la vediamo scusate ma mi sono segnate i film perché sono veramente tanti di Michael Cimino il cacciatore vai 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 sì perché sono talmente tante le cose che vorrei dire che me ne sono segnate che appunto segna il suo debutto ufficiale all'interno del mondo della settima arte e poi di lì appunto la sua carriera non si è più fermata come ho detto insomma le denomination parlano da sole poi si è sposata nel 78 con lo scultore Don Gammer hanno avuto quattro figli di cui tre tre ragazze hanno preso la strada della moda o anzi anche della recitazione quindi è andata diciamo la genie la religione è stato ben come dire tramandato quindi si sperano nuove generazioni di piccole Mary Striep ovviamente poi non si possono non si possono mai fare paragoni assolutamente però ecco quello che nel nostro diciamo per l'argomento che stiamo trattando è importante sottolineare al di là dei magnifici film dove la Mary Striep ha interpretato qualsiasi tipo di ruolo da appunto l'Iron Lady a Florence dove è una cantante in realtà era una signora che adorava cantare ma in realtà era sconata però faceva questi concerti per per il suo piacere di cantare questo film che è bellissimo con gli utenti poi Giulia e Giulia appunto dicevo il film che i nomi che tornano i ponti di Madison County la morte ti fa bella scideville lei il diavolo ha fatto tutto dalla commedia al film romantico al film drammatico un film che vi consiglio di vedere uno dei miei preferiti come Mary Striep è Silkwood però questo ora torno a raccontarvi dicevo una diva antidiva tra l'altro una tra le attrici preferite ora mi dispiace dirvelo ma è la Magnani come anche l'Elmira hanno come riferimento il cinema italiano e come riferimento di attrice tra le diverse ovviamente che avranno ma nominano spesso anche la Magnani è un'attrice non femminista che però anzi una donna non femminista che però si batte molto per i diritti delle donne soprattutto ad Hollywood ovviamente nel suo ambiente dove ha fatto e continua a fare ampie battaglie per la parità salariale tra maestranze ampie battaglie femminili e tra gli attori quindi già parliamo di standard elevatissimi o Hollywoodiani per appunto coprire questo gap che viene chiamato gender pay gap quindi per coprire questo disdrivello di paghe sia dietro le quinte che davanti alla macchina da presa lei è stata avanti con uno sglobo preso poi dal film sul fragetto in realtà dove lei ha interpretato la filmista Emily Fankard spero di averlo detto bene e quindi appunto torniamo al ruolo delle donne e in un'intervista ha dichiarato meglio ribelle che schiava quindi questo per dire un po' qual è il temperamento di questa attrice e di questa donna e quindi appunto dicevo una donna che si batte mortissimo per i diritti all'epoca della presidenza Trump o più o meno quando si stava candidando e lei ha vinto uno dei suoi nove Golden Globe quindi parliamo credo nel 2017 all'epoca Trump e lei non solo ma anche tanti altri di Hollywood ebbero il coraggio lei in prima persona di fare un discorso contro Trump contro il suo essere appunto contro anche questa la parità delle donne per parlare della politica di Trump lei sosteneva molto Hillary non mi vengono i nomi Hillary Clinton ora mi viene il nome da sposata però ecco lei sosteneva molto l'altra parte politica non ha avuto paura timore ma ha avuto un grande coraggio cosa che non è così scontata avere forse in America si qui da noi non lo so però insomma ha avuto il suo coraggio o forse è stato anche più pericoloso in quel tangente con un tycoon come Trump mettersi davanti a un microfono e dire questa come dire esternare le proprie posizioni non solo politiche ma anche diciamo mentale e di supporto proprio alle donne quindi è una donna che fa squadra con le donne tant'è che quando ho dovuto interpretare Miranda nel Dio come separata ho avuto grandi difficoltà perché dice che quello secondo lei tra l'altro ha avuto anche qui la nomination è stato il suo ruolo meno riuscito meno capito perché aveva difficoltà proprio di fare di interpretare una donna così assolutamente non empatica quindi anche qui una grande donna di spessore di talento è praticamente uno star vivente almeno a livello di nomination che vaga per Hollywood ti dico la parola ragazza io ti ascoltavo incantata perché adoro Meryl Streep quindi è tutto dire penso che Diavolo Veste Prada sia una delle tante meraviglie che ha fatto ci sono delle espressioni ancora adesso quando sto parlando mi viene in mente quando parla non ha il minimo senso della moda non era una domanda era un'affermazione quindi è meravigliosa anche in altri film strepitosa allora io adesso vagheggio ancora nella metà del 1800 e negli inizi del 1900 quindi mi appropinco all'epoca moderna e parlo niente di meno che di grazia dell'Edda allora permettetemi perché è una conterranea alla fine io sono di origine sarda quindi alla fine mi piace anche il gongolo anche nel parlare di questa scrittrice che ha vinto il premio Nobel nel 1927 proprio per la letteratura e dicevo prima soffiandolo in un certo senso a Matilde Serau e voglio dirvi una particolarità per cominciare carina una curiosità che mi è saltata all'occhio perché l'ho riscontrata anche nella mia famiglia lei si chiama in realtà Grazia Maria Cosima Damiana dell'Edda per gli amici Grazia dell'Edda e dovete sapere che questa cosa in Sardegna è abbastanza diffusa perché anche nella mia famiglia la mia stessa nonna paterna aveva 4-5 nomi che non ci azzeccavano nulla messi in fila sembravano messi a casaccio ma erano Giuseppina Paola Francesca 4 nomi il quarto non lo ricordo ma ricordo questo affollamento di nomi quindi diciamo che era una sorta di abitudine in Sardegna che adesso si è persa quella di mettere dei nomi lunghissimi parlando seriamente adesso questa era una cosa giusto per stemperare un attimo il discorso perché stiamo parlando a ruota anche dicendo cose molto molto interessanti però ci rendiamo conto che stiamo parlando una nuoretta quindi l'attenzione comincia a calare diciamo che grazie a dell'Edda oltre ad essere ricordata per aver vinto il premio Nobel io parto a bomba poi dopo vi dico qualcosina tornando indietro nel tempo dicendo che è stata Socio Ascolta Bene quindi perché viene dalla Sardegna quindi questo è stato un orgoglio anche quando l'ho detto a mio padre perché io lo ignoravo devo dire la verità lo ignoravo l'ho scoperto facendo questa ricerca per questa puntata di stasera che niente di meno lei è stata la prima donna a candidarsi al Parlamento Italiano per il partito radicale nel 1909 nel collegio di Nuoro quando le donne ancora non potevano votare quindi sì lo dobbiamo dire lo dobbiamo sottolineare proprio in rosso perché è stata una provocazione assurda nei confronti di un voto che arriverà solamente quasi 40 anni dopo nel 1946 quindi lei è stata la prima donna a fare questa cosa e aprirci la strada con una provocazione fortissima al voto che noi oggi abbiamo un'altra cosa da sottolineare è che è stata sì vincitrice del premio Nobel ma è arrivata una donna a ricevere il Nobel dopo un'autrice svedese e qui anche ancora una volta il nord Europa si mostra molto più diciamo così civile del nostro paese perché è cosa da dire da sottolineare anche questa e niente torno indietro e vi racconto un pochino della sua vita a differenza delle altre che ho parlato finora la Deleda se la passava bene economicamente la famiglia era abbastanza benestante nata a Nuoro cresciuta in un ambito familiare abbastanza caloroso ha avuto diverse disgrazie poverina la morte del fratello ma non so qui raccontarvi tutte quelle che ha passato però ha avuto la fortuna di avere un'educazione stabile e soprattutto dei precettori come si dice in questo caso molto molto preparati che hanno aperta totalmente al mondo degli intellettuali tant'è vero che è stata anche lei sostenuta proprio per la sua arguzia per la sua intelligenza e per la sua preparazione da molti intellettuali dell'epoca la cosa però che voglio dire esulando un pochino dal racconto di lei perché vi ho detto queste due cose importanti a cui tenevo particolarmente questa è l'edizione della biblioteca economica Newton De Canne al Vento che è uno dei romanzi più famosi della De Vedda e dovete sapere che lì le 2000 quindi figuratevi avanti Cristo dovete sapere che è anche il romanzo più tradotto al mondo quindi è stato letto dappertutto ma io volevo fare una piccola nota una digressione diciamo così proprio per la validità di certi testi e di certe scrittrici ce le sono tantissime sottolineo però alcune naturalmente di quelle di cui stiamo parlando stasera hanno davvero segnato il passo nella storia delle donne e della storia della società e del mondo femminile diciamo che la De Vedda ha scritto questo romanzo nel periodo del verismo quindi parliamo di un esponente del verismo romantico lei così viene definita nella letteratura ma la cosa che voglio raccontarvi io è un'esperienza personale io ho letto questo romanzo che avevo 14 anni perché mio padre lo portò a casa un giorno e disse devo leggere questo libro forse per appartenenza forse mio padre faceva il carabiniere quindi non è che avesse tutto il suo tempo da dedicarle alla lettura quando tornò con questo libro me lo regalò e disse però prima voglio leggerlo io lo lesse e mi disse leggilo perché è bellissimo naturalmente a quell'epoca come tu pensavi Chiara a parte che qua di caratterini non è che ce ne mancano anche io avevo il mio diciamo così punto di vista allora lì per lì dissi vabbè lo leggo anche se a quell'età avevo cominciato ad avere un interesse maggiore per la lettura perché spintero alla scuola la mia insegnante di latino e greco in particolar modo ci spingeva a leggere durante l'estate quindi per non portarvelo a lungo l'ho lessi non mi piacque onestamente non mi piacque l'ho riletto da adulta e l'ho trovato meraviglioso questo per sottolinearvi che i libri quindi la scrittura segue un percorso e molte volte i libri che non ci piacciono in impatto la prima volta ci piacciono la seconda volta ma questo perché perché grazie ad eletta tra i vari i libri ha affrontato nella scrittura e nella letteratura delle tematiche abbastanza inusuali per il luogo la regione in cui era nata si parla di sensi di colpa si parla di beghe familiari e lei lo racconta anche denunciando un po' una situazione culturale che era quella della Sardegna dell'epoca che non era da tutti quindi per concludere prima donna nel 1909 a candidarsi al collegio di Nuoro per il Parlamento italiano seconda donna in Europa a vincere il premio Nobel nel 1927 donna che va di fuori di tutti gli schemi e in Sardegna e nella provincia di Nuoro chi vive là sta bene che esiste una mentalità ancora oggi abbastanza difficile che sfida queste convenzioni e scrive questo libro di rottura che è Canne al vento io direi che non devo aggiungere altro ti ripasso di nuovo la parola e ci appropinchiamo alla fine di questa nostra chiacchierata e poi diremo alcune cosette anche per concludere a te la parola a te la parola Chiara mamma mia che meraviglia tutte queste donne sono una più interessante più proprio di umanità e di intelletto proprio di livello culturale spaventoso io concludo la mia il mio quartetto d'assi il mio poker di donne con Liliana Cavani una scuola di 91 anni lo so l'età delle donne non si dice ma davanti alla Cavani è un valore aggiunto un'età e un ripeto un intelletto così ancora vivo acceso e ancora con tante cose e tanta voglia di raccontare ora Liliana Cavani e tutti ovviamente la prima cosa che ci viene in mente anche qui è il portiere di notte il portiere di film più famoso quello che le ha reso più celebre anche perché forse è quello che le ha dato tra i tanti qualche problema e non più ma ora insomma ci arriviamo piano piano Liliana Cavani nasce a Capi spero di non sbagliare quella geografia ma se non erro potrebbe essere in provincia di Modena ed è figlia di una casalinga e di un architetto si laurea a Bologna in lettere antiche nel 59 e il fatto è che lei spesso ancora oggi nelle sue interviste dice da giovane sepevo più delle guerre del pelo porneso non di quello che avevo che mi ruotava intorno e se ci riferiamo al 59 insomma c'era il mondo che si muoveva poi l'Italia era le porte del Pum un'atmosfera vibrante e piena di cose da fare c'era un paese da ricostruire una gioventù che aveva voglia di divertirsi e di fare soprattutto quindi dopo lo studio classico della laurea viene a Roma e frequenta il centro sperimentale che qui a Roma è andato nel 35 da Mussolini perché il cinema era l'anima era l'arma più forte fortunatamente poi è rimasto il cinema come arte e quindi non come propaganda perché quello era poi lo spirito di si faceva il cinema in quegli anni ma torniamo alla nostra linea di avanti quindi il frequente al centro in Gia con il corto la battaglia che in realtà era un documentario quindi c'è quello che viene dato il premio quello che all'epoca si dava non so se si dava oggi si chiamava il ciac d'oro e da lì inizia la sua carriera che va avanti fino ad oggi se pensiamo che all'ultimo festival di Venezia è stato presentato un suo lavoro ispirato a un saggio del pubblico Crivelli che se non erro si intitola l'Urdine del Tempo appunto ispirato all'omonimo saggio di Carlo Crivelli quindi anche di una mente perennemente in movimento la Cavani come abbiamo detto ha fatto neanche tantissime cose e pensieri a una più di quarentena c'è circa una trattina di film se non erro in cui compariono documentari film film per la tv quindi c'è un cinema tutto il mondo la Cavani lavora anche in televisione oltre che grande schermo facciamo soltanto dei piccoli esempi nel 66 fa il suo primo Francesco Razzini in realtà mi farà tre versioni cioè questa versione per la tv del 66 con Luca Stel ce ne sarà un'altra dell'89 che però non ha molto successo di pubblico che è quello con Michi Rourke e poi ce ne sarà un'altra per la televisione nel 2014 quindi nonostante non sia quello che ho potuto capire posso sbagliarmi non sia una fervente o stervante non so capire che si qua la regione passo passo però la stai dedicata molto a questo personaggio tant'è che una di queste versioni se non è proprio quella con Michi Rourke venne la vide accanto a Papa Volgira che la ringrazia per aver reso così umano il Santo Francesco perché anche questo la dice lunga sull'impatto del cinema di Elena Camaro poi ha fatto un altro film dedicato a Galileo questo film oggi da quello che ho scoperto è di proprietà di Mediaset in realtà questo film non è mai stato trasmesso dalla televisione non si sa se c'è da qualche parte lo zampino del Vaticano o di qualche altro ente che lo abbia bloccato però non è non è mai passato in televisione nonostante poi Galileo si è stato abilitato insomma perché sappiamo cosa gli è abilitato al suo tempo questo pare non si è bastato la televisione e con i tempi di oggi è anche passatemelo è un povero tutto ciò che è attrappata poi è andata a Marte perché tanta generazione che è una rivisitazione dell'articolo di Sofro di Sofro scusatemi appunto il portiere di Notte dove c'è un con Charlotte Ramping tra un ebrea e un signo al tempo dei lager nazisti quindi riprende questa relazione appunto il portiere di Notte è questo quello che è stato quella musica appunto di il popolare quindi e all'epoca possiamo siamo del 74 quindi quindi censurato e bloccato e ancora oggi quando quelle poche volte assurdi proprio perché insomma ci sono scelte se la Cavani non si è risparmiata ma la riso sempre con molta eleganza quindi con molta educazione in questo senso con una mentalità ben non è stato portato là non si scade non si cade mai nel volgare nel voler ostentare tant'è che poi questo portiere di Notte è un po' come quando dici mi sto vedendo il film con Marlon Brando e la Schneider quindi è un po' un po' ti senti ancora oggi a distanza di 80 anni se non sono già 50 anni la reazione quando si parla di questo film è ancora questa e dicevo questo portiere ha avuto tanto tanto con la cittura però ancora oggi è molto tanto e dicevo questo film all'epoca quindi parliamo questo è di settimana 4 quindi prendiamo i film di serie B che da fine anni settimana poi partono alla rinfusa se ne fanno tantissimi nella nostra cinque quel tipo di ricordo tra vittima carnefice o anche un nazi sexy è stato più volte ripreso ma non soltanto nella nostra cinematografia ovviamente di serie b ma anche di serie inferiore per film se vogliamo anche di altri filoni che hanno riproposto questo rapporto però in realtà quello di Liliana Cavani è ben altro e la storia del cielo appunto lo racconta tant'è che è anche di ispirazione questo film alla cadura degli dei di sconti anche questo forte ma bellissimo per chi non l'ha visto anche questo vi consiglio di vederli in realtà in parallelo cioè prima uno e poi l'altro indifferentemente da quale prima e quale l'altro però è un consiglio che è anche a meno a me così accoputo perché ho visto entrambi contestualizzarli meglio e a capire meglio anche la poetica dell'un regista e dell'altra regista perché non è un remake dell'altro però è un completamento secondo me di un discorso dal primo all'altro ma anche dal secondo film al primo quindi è un arricchimento costante un altro la cavale ha raccontato anche le donne alla televisione ha raccontato la resistenza nelle donne ha raccontato De Gasperi ha raccontato Einstein ha raccontato veramente le grandi menti della nostra storia e una piccola curiosità è la prima donna di regista italiana ad aver vinto il leone all'oro alla carriera che le è stato consegnato lo scorso anno a Venezia in realtà c'è anche un'altra donna unica un'altra donna regista ad aver vinto il leone d'oro della regia ed è una regista di Hong Kong e il nome è bene Han Hui On Ba quindi in 80 anni del festival del cinema di Venezia 78 registi uomini e due registi donne hanno vinto il leone d'oro come registi questo credo che la dica abbastanza lunga io ti ripasso la parola su questa piccola chiudura e ti ripasso la parola Mayra abbiamo ancora molto da fare nel campo creativo del film del cinema del teatro un po' in tutti i film che abbiamo il film ma le date migliorando c'è ancora molto da fare io concludo con una donna che a mio parere ho tirato sempre di cui ho parlato perché nel mio ramo di pittura e giornalismo penso che sia la più la somma di protagonisti passando di cui vi ho parlato dico e parlo di Oriana Fallasci è stata nel 1900 quindi è attualissima è nell'epoca moderna morta nel 2006 tra poco fra metà anni dalla sondata penso che sia stata una delle giornaliste qui di parere persone prendetelo e riponetelo sul comodino come si dice in questo ciclo vi fatene quello che volete però penso che sia stata una delle più grandi giornaliste italiane coraggiosissima tostissima una combattente nata e devo dire che l'ho scoperto poi sempre grazie alla scuola perché ho letto uno di naturalmente sarà molto sintetica perché la sua vita è immensa ci sarebbero tante cose da dire tante cose da raccontare tanti libri di cui parlare ne ha scritti in realtà pochi per la sua attività giornalistica intensissima ne ha scritti 20 tradotti in 12 in tradotti in diverse parti del mondo ma ha venduto 12 milioni di copie quindi abbiamo del tutto con queste poche cifre pochi numeri per valutare a livello proprio la legna carriera di Oriana Parlaci che è stata immensa partiamo dal presupposto che venne da Firenze come sapete la maggior parte di voi lo saprà ed è morta a Roma e ha avuto una vita che ha vissuto secondo me è stata una giovanissima staffetta partigiana per il papà di un amico e pensate ha iniziato la sua carriera scegliendo la facoltà di medicina poi ha lasciato medicina ha fatto un uomo di lettere poi dopo la sua parte è riuscito da e basta secondo me era il suo destino perché è stata prima e qui andiamo al punto centrale di questi nostri interventi è stata la prima inviata speciale in guerra quindi ma come Oriana Fallaci la cui immagine con la sigaretta in mano e con quell'area sinistra potente diciamo che la sua carriera è stata costellata di incontri tra cui uno in particolare quello con Panaguis ma ci arriverò dopo ma è stata costellata di incontri dalle esperienze giornalistiche che hanno poi dettato la scrittura perché la maggior parte dei suoi libri sono tutti tutti inseriti al suo corso giornalistico pensiamo a il senso utile pensiamo a la guerra che lei ha scritto successivamente a un suo periodo passato in Oriente a studiare la condizione della donna in Oriente pensiamo negli anni 60 alle testiste in America che ha fatto gli astronauti e alcuni tecnici della casa pensiamo alla guerra in Vietnam dove lei è stata in guerra speciale pensiamo appunto e arrivo qui a quello che dicevo prima all'incontro con Panaguis compagno lei le è stato vicino fino alla fine quando è morto insomma la sua vita è stata postellata di tantissimi episodi e lieti e meno lieti la vita della fallace è stata fuorché comunque noiosa c'è a questo punto un particolare che voglio sottolineare perché lei è ricordata soprattutto per la sua teoria sull'imma io la ritengo un'intellettuale visionaria perché apro e chiudo parentesi l'ha visto lungo i più sapranno che lei era contraria attaccava l'occidente perché si era inginocchiato piegato troppo alle dinamiche di islamizzazione lei così la chiamava che era dell'occidente chiudiamo parentesi penso che la realtà le stia dando in un certo senso ragione ma non vado oltre perché questo non è il posto nel momento in cui parlare di queste cose ma ancora una volta sottolinea l'intelletto notevole e visionaria di questa donna che è cresciuta proprio guardandosi intorno e osservando chiaramente leggendo la realtà anche oltre i suoi tempi voglio concludere con una chicca personale perché molte di queste come sapete le ho lette e incontrate nel percorso giornalistico perché ovviamente quando si fa la giornalista anche se in piccolo o in mini comunque si prende ispirazione si cerca di guardare a chi sta più grande a chi è più grande e io all'età di 14 anni ho letto l'unico libro della Pallaci non ispirato alla carriera giornalistica ma ispirato alla sua vita personale e tutti in particolare questo nella sua vita nel corso della sua vita lei ha sfiorato più volte la maternità e ha avuto se non ricordo male due o tre aborti l'ultimo era rimasta incinta di Panagoulis l'ultimo aborto ha generato un suo capolavoro letterario perché questo è veramente un capolavoro vi consiglio di leggerlo perché è di 100 pagine ma è di un'intensità abissale emozionale profondissima e leggerò un bel maniato è a tratto intensissima emotivamente coinvolgente ma c'è tutta l'umanità e la disillusione di una donna grandissima che è stata ovviamente una faccia discutibilissima naturalmente da diversi punti di vista ma secondo me è una grandissima donna con questo io concluderei perché abbiamo fatto un'oretta di chiacchierata e aspetta adesso vado a vedere social quanto abbiamo fatto quasi un'ora e mezza ci prendiamo un minutino dimmi 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 è volata sì è volata perché abbiamo chiacchierato piacevolmente di donne che ci piacevano in realtà io vorrei dare un poco le somme perché vorrei dare anche come dicevo prima all'inizio un fil rouge per tutti i nostri amici io ho scelto un percorso storico tu hai scelto un percorso storico quasi parallelo ma abbiamo scelto come dicevo prima ma donne che si sono distinte per indipendenza libertà intelligenza creatività forza coraggio tutta una serie di cose di valori ma se io e te possiamo fare adesso io la giornalista e tutta la storica del cinema forse qualcosa e le altre colleghe possono fare e diciamo così tra le difficoltà comunque fare quello che vogliono forse lo dobbiamo anche a loro tu che dici socia assolutamente sì ci hanno spianato la strada che tanto c'è ancora da fare ma tanto hanno fatto tutti noi vogliamo anche quindi sì ci hanno spianato la strada tutta insieme proprio come loro io volevo volevo fare concludere te perché questo sicuramente lo sai tu mi parla di un'idea che Uriana Fallascio ha fatto la tua prediletta Anna Magnani se sbaglio si l'ho intervistata la Fallascio della Magnani per un europeo lavorava all'epoca negli anni 60 per questa rivista una bellissima intervista moltissime le domande l'ultima cosa che riviste la Fallascio su Chiara Magnani lei è un'idea quindi è un'intervista di 1963 e il titolo è buona tanto da chi si trovi anche il rete tra le domande della Fallasci che fa la maggioranza delle risposte della Magnani ma le domande della Fallasci c'è questo due donne alla pari quindi la Magnani che prende in giro questa pulce perché le fanno le domande irriverenti o fanno fare cose che lei vorrebbe si toccassero ma sempre con le risposte quindi è un gioco di due donne di generazioni diverse ma che giocano a darmi pari con grandi grandi interessazioni e quindi non potremmo in maniera migliore abbiamo trovato anche un credo sicuramente qualche cosa non la sapete sicuramente qualcos'altro speriamo di avervi regalato un'ora e mezza di conoscenza di visione di bellezza perché quando si parla di di donne è sempre bellezza e cosa gli diciamo social a questi a questi amici che ci hanno seguite che noi ritorniamo la settimana prossima però in veste diversa assolutamente sì noi ci ritroviamo ci rivediamo ci rivedrete ovviamente parlando di non anticipiamo nulla immagino ma insomma seguiteci allora sì non anticipiamo nulla noi abbiamo già detto in realtà loro lo sanno chi segue lo sa è un argomento totalmente diverso quindi grazie a tutti coloro che ci hanno seguiti che ci hanno seguiti ho questo maschile grammaticale che mi seguite mi perdonerete quindi grazie a tutti coloro che ci hanno seguiti grazie a chi ci ha salutato ed è passato grazie per la pazienza grazie a chi rivedrà questa intera puntata se avete qualcosa da dirci o anche un semplice saluto a lasciarci fatelo sotto il post che adesso pubblicheremo e niente vi ringraziamo e torneremo forse sicuramente con altre chicche del genere ti mancava la parola in conclusione oggi sì tantissimo erano quasi 24 ore quando la sentivo quindi tantissimo finale chicche cinematografiche letteraria noi vi salutiamo di allegria vi auguriamo un buon sabato e vi vediamo presto presto grazie a tutti grazie a tutti e ancora presto ciao grazie ciao